Una dedica particolare la faccio a mio cugino che da solo, perché da solo, riesce ancora a sopportare tante cose. Sicuramente lui avrà più fisica di me perché io non li sopporto più e quindi oggi posso dire che per me è molto difficile continuare. Oggi il Teramo è ancora in C, una società che si è sempre adoperata per mantenere tutti gli impegni, un uomo solo al comando, criticato, ma a volte va anche un po' applaudito perché il calcio a Teramo lo fa da solo. Io mi metto da parte perché io posso dare un sossegno in altri modi, ma il calcio lo fa lui e sicuramente da solo a volte si indovina, a volte si sbaglia. E' una persona umana, quindi io gli auguro di avere ancora tutta questa forza, tutta questa forza mentale, perché qua di forza mentale ce ne vuole veramente tanto. Io forse la mia mente non è più capace di sopportare questi stress, queste offese, perché il calcio è un divertimento, un divertimento. Le famiglie non c'entrano nulla e dove noi come persone del Teramo Calcio rimettiamo anche tanti soldi, divertendoci tanto. E posso dire che in tanti anni mi sono anche molto divertito nel Teramo, ma oggi la mia mente mi dice che forse è meglio che io smetto. Mi lascia è più capace di tutto Fab física. Grazie a tutti